La Toscana è in zona gialla e in base all'ultimo DPCM, lunedì 18 gennaio i musei possono riaprire al pubblico, anche se soltanto nei giorni feriali e seguendo le norme di sicurezza anti-covid, mascherina, distanziamento e lavaggio frequente delle mani. Finalmente, dopo tante battaglie, siamo riusciti e, devo dire, insieme al Ministro Franceschini abbiamo spesso insistito sotto questo aspetto perché in zona gialla, contrariamente ai primi DPCM, fosse inserito anche l'apertura di musei e mostre, naturalmente in modo distanziato, quindi da domattina anche Casa Siviero, come tutti i musei e le mostre temporanee potranno essere riaperte e secondo me questo è un grande segnale per la cultura perché dopo il covid la cultura ritrovi quella posizione centrale che in Italia, in Toscana, è necessario riuscire a sviluppare come messaggio forte della nostra identità. In zona gialla potremmo riprovare con stringenti misure di sicurezza di aprire anche cinema e teatri, ma non è mia competenza, non è competenza dei Presidenti delle Regioni, sta all'interno dei DPCM. Io spero che nel prossimo DPCM, che è preannunciato come sempre fra un mese perché abbiamo uno stato d'emergenza che è stato prolungato, ma i DPCM vengono adeguati strada facenda una volta al mese, io spero che nel prossimo DPCM possa essere consentito questo. Per ora però io vedo una vittoria, un aspetto positivo che ci possano essere i musei nelle mostre. Io sapete quanto ci tenga la cultura a parlare con gli operatori culturali e vederli totalmente indifferenti che ci fosse zona gialla, zona arancione o zona rossa, perché comunque era la chiusura di tutte queste attività, era nel preambolo, era per definizione, potevano migliorare i dati ma non contava nulla per la cultura. Ecco, essere riusciti a inserire nel meccanismo, quantomeno della zona gialla, l'apertura di mostre e musei è stato un primo risultato importante. Speriamo la prossima volta di ottenerlo anche per teatri e cinema. A Firenze riaprono da lunedì i musei civici, cioè il Museo di Palazzo Vecchio e la Torre di Arnolfo, il Museo Novecento, il Museo Stefano Bardini, la Cappella Brancacce, la Fondazione Romano, il Museo di Santa Maria Novella, il Museo del ciclismo Gino Bartali e il Memoriale di Auschwitz. Con la loro riapertura sarà inaugurata anche la mossa di Henry Moore al Museo Novecento e riaperta la rassegna dedicata a Raffaello in Sala d'Arme di Palazzo Vecchio e quella fotografica di Massimo Sestini nell'ex refettorio di Santa Maria Novella. Gli statali del Bargello fanno sapere di essere al lavoro per tentare di aprire almeno tre siti del complesso, il Museo Nazionale del Bargello, le Cappelle Medice e Palazzo d'Avanzati. Le gallerie degli Uffizi riapriranno i siti all'aperto, ovvero il Giardino di Boboli, martedì 19 gennaio e da lunedì la Loggia dei Lanzi. Ci vorrà più tempo per il Museo degli Uffizi e Palazzo Pitti. Resta chiuso al pubblico il complesso monumentale dell'Opera di Santa Maria del Fiore che comprende Duomo, Campanile 18, Battistero e Museo. La Galleria dell'Accademia sarà invece pronta alla riapertura il 13 febbraio. Durante la chiusura per il lockdown ha avviato lavori che sono ancora in corso. Ripartono dal 21 gennaio l'Archeologico Nazionale di Firenze e il Museo di San Marco. Dal 18 gennaio apre anche l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze, le sale del suo piccolo e prezioso museo. Per il resto della Toscana annunciano inoltre la riapertura dal lunedì il Museo della Città di Livorno e a Pistoia il Civico d'Arte Antica in Palazzo Comunale, l'Ospedale del Ceppo e il Museo Novecento di Palazzo Fabroni. Tra quelli che non riapriranno ci sono la parte museale del Duomo di Siena e la Torre di Pisa. A Prato tutti riaperti i musei cittadini, a partire da Palazzo Pretorio e a seguire il Museo del Tessuto, i Musei di Ocesani e il Centro Pecci per l'arte contemporanea.